La Corte d'Appello di Firenze ha rigettato le domande di risarcimento danni proposte da Alfredo Landucci e Daniele Scortecci nei confronti di Sergio Squarcialupi in relazione al processo per presunti reati ambientali che abbia avvio nel 2008. Lo rende noto chi mette SPA. La sentenza è del 7 gennaio scorso. La Corte di Cassazione, con sentenza del 7 aprile 2017, aveva annullato la sentenza di condanna per Sergio Squarcialupi emessa dalla Corte d'Appello di Firenze il 12 maggio 2015, disponendo il rinvio alla Corte d'Appello per le statuizioni civili. Dopo questa pronuncia, le parti civili Landucci e Scortecci avevano riassunto il giudizio e formulato richieste risarcitorie per circa 2 milioni e mezzo di euro. La Corte, precisa una nota di Chimet, entrando nel merito delle contestazioni rivolte a Sergio Squarcialupi, ha ritenuto che le circostanze di fatto accertate nel corso del giudizio fossero sufficienti per escludere non soltanto il dolo ma anche la negligenza colposa del convenuto Squarcialupi, il quale agito della ragionevole convinzione della legittimità delle autorizzazioni che gli sono state rilasciate e pertanto della liceità delle attività di incenerimento dei rifiuti da lui svolta a partire dal 1998. Secondo l'azienda, la pronuncia costituisce l'ennesima e finale riprova che tutto quanto messo in scena all'alba del 20 febbraio 2008 sia stata un'enorme bolla di sapone che alla fine si è sgonfiata, come Chimet ha sempre sostenuto. In tutti questi anni, continua Chimet, solo la tenacia della famiglia Squarcialupi, supportata da tutta la struttura dell'azienda, ha reso possibile la continuazione dell'attività nonostante l'impatto economico ed immagine determinato da quella vicenda. Ci sono voluti anni per ricostruire una reputazione che consente a Chimet di essere leader a livello mondiale del settore azienda che coglie l'occasione per ringraziare tutto il proprio personale.